Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo ventesimo episodio dell'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco Ragazzi nello scorso episodio siamo giunti nei presi di Sest'Isola dopo aver finito di esplorare Quint'Isola Sest'Isola dove abbiamo perso Gaetano che ha fatto proprio schifo ma tanto schifo Che è stato sostituito ragazzi da Vegano che ho allenato fino al livello 57 Ho tirato una botta qui alla tenda E nulla ragazzi direi di iniziare subito vi invito fin da adesso a lasciare un bel mi piace Hanno detto che la serie è un po' in calo di visual ma questo penso sia dovuto sia al periodo diciamo in cui è riniziata la scuola Ma anche al fatto che la serie ovviamente per alcuni potrebbe avere perso di interesse dopo la Lega Detto ciò invito comunque tutti voi a lasciare un bel mi piace perché ciò che conta non sono le visualizzazioni Ma è sempre in supporto di chi guarda la serie almeno io la penso così In ogni caso direi di iniziare subito perché oggi ragazzi potrebbe essere un episodio Flauto giallo Potrebbe essere un episodio decisivo Perché vi dico decisivo perché ragazzi oggi probabilmente entreremo nella cripta dei punti Nella cripta dei punti si trova lo zaffiro Ora io attiverò il repellente perché già non ne posso più sul serio Sì ne ho 21 Nella cripta dei punti vi dicevo ci sarà lo zaffiro Grazie al quale potremo diciamo risolvere la quest finale Anche se in realtà non sarà così semplice e poi vedremo il perché Di fatto ragazzi Grazie per avermi bruciato figliolo I pokémon sono quasi tutti al 60 per la solita storia degli switch ormai non ve la dico neanche più Oggi ragazzi potrebbe trattarsi dell'ultima votazione della serie Perché vi dico ciò? Perché di fatto ci manca questo episodio nel quale esploreremo tutta Sestisola Poi la battaglia finale col Team Rocket E infine Settimisola oppure probabilmente farò prima Settimisola e poi la battaglia finale col Team Rocket Valle Antica quindi questa è una cattura però noi abbiamo un repellente perché siamo stronzi e quindi dobbiamo aspettare Detto già ragazzi come vi dicevo appunto Questa potrebbe essere la ultima votazione perché ovviamente non vi faccio votare all'ultimo episodio Non avrebbe molto senso e quindi ragazzi mi raccomando votate con parsimonia Visto che è diventato, grazie Visto che è diventato un calto ormai della serie E soprattutto votate consapevoli che questa potrebbe essere effettivamente l'ultima votazione della serie Nel frattempo stiamo affrontando un po' di allenatori senza motivo Intanto vi faccio vedere il moveset di Vegano che secondo me è un buon moveset Tra l'altro l'ho allenato ed è effettivamente un buon pokémon Non ho messo in squadra lui in realtà per il semplice fatto che era a livello 40 E comunque mi dà delle sicurezze perché è un ottimo pokémon Nonostante voi mi direte ma creepy c'hai tre pokémon di tipo volante E vi dico sì ho tre pokémon di tipo volante Se non avessi allenato lui probabilmente a questo non sarei qua a registrare il video Non sarebbe uscito il video Tra l'altro mi scuso anche se ogni tanto mi capita di interrompere la programmazione dei video Purtroppo in questo periodo sto arrivando a registrare tutto all'ultimo momento La cosa sinceramente mi dispiace perché io sono sempre stato abituato a registrare settimane prima Però con la scuola e anche altri impegni che mi si stanno accollando uno sopra l'altro Devo un po' organizzarmi meglio e devo un po' riassettarmi E io ti odio Io ti odio assai Muori No non muori Eh parassi sempre ovviamente no Grazie perfetto ce l'abbiamo fatta E quindi nulla mi dispiace se ogni tanto non usciranno i video giornalieri come ad esempio martedì Cercherò di Di migliorare sotto questo punto di vista E tra l'altro non ho fatto neanche quella live di cui vi parlavo Sempre per il solito motivo che io ormai avendo tanti impegni rispetto a prima Soprattutto tante passioni rispetto a prima da portare avanti Non riesco a calcolare bene il tempo Quindi nulla Detto già ragazzi torniamo a noi Siamo a tre minuti sta registrando tutto perfetto Ora adesso vi racconterò un simpaticissimo aneddoto su queste rovine Perché ragazzi allora ve lo spoilerò da adesso Bisognerà utilizzare taglio per entrare Ora non ci sarà cioè non è facile arrivarci perché bisogna utilizzare il codice braille Ora premettendo che io quella lì alla porta ma prima vorrei prendere un po' di strumenti Premettendo che io il codice braille cioè non ne sapevo l'esistenza inizialmente Quando l'ho scoperto ho detto bella posso andare avanti nel gioco Aspettate cattura Sì c'ho la spices close per fortuna Tra l'altro no we do l'avevo già catturato solo che l'avevo voluto per il pokédex Dai un altro Oh gesù Oh gesù bambino Perché Perché Ho 8 ultra ball E se non ci entri non è un problema guarda sul serio Ti prego Dai che già nello scorso episodio ho perso Alakazam che fra parentesi mi ha sciottato Gaetano Ok perfetto ho preso un mag cargo Che non so come chiamarlo effettivamente È una lumaca di fuoco È bollente no? Cioè poi c'ha due cose qui così Non lo so è orribile raga come faccio Come lo chiamo un coso del genere Cioè E perché c'ha lo sprite col guscio blu scusate Vabbè Ehm Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamo escargo dai Che è molto che è carino Ehm Di solito questo soprannome qua l'ho visto dato Escargo Vediamo se la lingua francese non mi tradisce Ok perfetto Questo soprannome l'ho visto utilizzato Se non sbaglio da qualche youtuber ora non ricordo Sinceramente l'ho visto utilizzato su un Gudra E quindi nulla Adesso io siccome pecco di fantasia Questa volta E gli do questo soprannome qua Mi metto un po' più comodo sulla sedia ragazzi Perché altrimenti qua si muore Ehm Nel frattempo mi lagga il gioco Per motivi che io non riesco a comprendere Visto che non ho aperta nessuna finestra particolare Ma Ragazzi dobbiamo abituarci al fatto che La vita è un po' una merda Ehm Ok Sono abbastanza convinto Che Allora Che tu sia uno stronzo Ma soprattutto che io non sia passato da te Prima Comunque sconfitto Perfetto Prendiamo anche quest'altro strumento Me la ricordavo un po' diversa Effettivamente la cripta Ok perfetto Io sono un capace anche di mandare a puttane Questi giochini qua semplici E io ve lo dico Ok perfetto Allora dobbiamo essere nei pressi da cripta dei punti E nulla Vi stavo dicendo ragazzi Prima di far la cattura Che io Andai a cercare di tradurre col codice Braille E tradussi giusto Il problema è che Lessi taglio E non taglio E di conseguenza Io leggendo taglio Non ci arrivai che dovevo usare taglio Cioè Taglio Cosa vorrà dire mai taglio E E poi E poi ho scoperto questa cosa Si pigliatemi per scemo Comunque taglio Vedete che si apre Perfetto Fidatevi di me Su quelle robe lì C'era scritto quello Cripta dei punti Ora Catture qua se ne potranno fare Suppongo di sì Suppongo di no Perfetto Allora scendiamo Tra l'altro questa grotta qua ragazzi A me sinceramente piace molto Ora In alto Perfetto Dovrei essere ancora più o meno in grado di capire il Braille A Sinistra Cioè in realtà mi sto basando sul numero di lettere Tranquilli Non sono A destra ovviamente Perfetto Sono curioso di vedere cosa succede se vado nel buco sbagliato In basso Però non ho voglia sinceramente di provare Oh eccoci qua Il rubino Perfetto Qua cosa dice Ok allora ha detto che Che dovete iscrivervi al canale Prima cosa Dovete lasciare un bel mi piace E commentare rispondendo alla domanda del giorno Attenzione Eccolo qua lo scienziato del team rocket Che ragazzi adesso ci ciula lo zaffiro Vedrete lo sapevo Sapevo che facevo bene a seguirti Sapevo che avrei trovato uno zaffiro qui Quindi è mio Lo venderò a team rocket ad un prezzo Spaventoso Ehi smetti di fissarmi così Se lo rimuoi puoi riprendertelo dopo che l'ho venduto Che simpatico quest'uomo Ok ci ha dato l'altra password del rifugio del team rocket Che Le scarpe di parasect Davvero Ok questa cosa qua non me la ricordavo raga Comunque ragazzi quella cosa lì del team rocket Sarà l'ultima che faremo in questa serie Perché io prima ragazzi voglio esplorare tutte le isole E quindi ragazzi adesso andremo qui a nord Quindi Non mi sono impappinato lo giuro Attiviamo surf Affrontiamo questa qua che si lamenta del suo fidanzato Che è qualcosa Non ho letto Ma quale fidanzato Finchè hai uno smirgol Non potrei trovare mai un fidanzato Dai si 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 per piacere obiettiva Non ti confondere vegano Non ti confondere grandissimo Madonna raga quanto sto adorando sto pokemon Livello 58 Perfetto Ah ok pensavo fosse più Ah tra l'altro qua c'era Ok c'è un pezzo che io avevo rimosso C'è tipo una Oddio un villaggetto Non è esattamente un villaggetto Perché Forse sono due case in croce Tipo una E una due qua dietro Sì esatto Allora se io vorrei passare C'è raggi Registil Ovviamente no Perché tutti ci hanno in giro Non è stab vero Ok perfetto Non è stab perché Registil Erciai Ok non so perché io abbia pensato Che fosse stab Ok Gengar Oltraggio Non è delle buone difese Ipnosi Tattacchi Muori Tra l'altro raga Salamence con stab oltraggio È davvero una goduria Allora mettiamo davanti Cosmo e affrontiamo queste No Cosmo Ok perfetto E affrontiamo queste due ragazzine Mia e tua Probabilmente no Mia e sua No Mia e Miu Che cosa Sono andato in confusione totale Allora Foglia magica Su di lui E idropompa su di lui In teoria dovremmo Aver archiviato la faccenda Vediamo un po' E sì Perfetto Molto easy Ora non ricordo L'utilità di queste case Almeno una misurava Gli Heracross E l'altra Non lo so Tu cosa fai Ah ok Perfetto Lui è alto 1,70 E lo sa Perché L'ho misurato La sua vicina Ora io sono curioso Di fare una cosa Quanto è alto Red Ci sarà un modo Per scoprire Quanto è alto Red No In teoria Se io vado su Pokédex E confronto le misure Allora Fatemi Fatemi provare sta cosa Perché sono obiettivamente curioso Ok Dimensioni Quanto è alto sto Pokémon 1 e 1 No ok Sì ci sta Saremo all'incirca 1,70 Anche noi più o meno Volevo vedere Se veniva fuori Una contraddizione carina Ma evidentemente Game Freak È stata attenta A non fare cazzate In questo caso Allora Surf Tra l'altro Questa qua cos'è Nuova zona Non ne ho idea raga Andiamo a controllare subito Sulla mappa E Questa è la via marina Due prossimi Ho già fatto la cattura Ok perfetto Quindi nessun problema Uh Squama drago Interessante Se solo si potessero fare gli scambi Si potesse evolvere Si Drinking drop Invece non si può Allora Questa qua è la tipa Che misura gli eracross E il mio È veramente colossale Allora aspettate Quo Uh Quo arrugiata Minchia raga Si trovano tutti gli strumenti Dei draghi In questo episodio Per chi non lo sapesse È la cuorrugiata E lo strumento da dare A Latios E Latios Che potenzia o qualcosa Di cui non sono a conoscenza Ma raga Cattura Chiudo gli occhi È un po' che non lo faccia O Gesù Io questo verso qua Lo conosco Però Ehm Sidot Baltoi Eh La merda A livello 9 poi C'è proprio la potenza Fatta A Pokémon A Pokémon Baltoi Ehm Baltoi Ehm Chiamarlo Beyblade Sarebbe un po' schifoso E da Persona con poca fantasia Quindi lo chiamo Ehm Qualcosa che ruota Ehm Lo chiamo Oddio Lo chiamo Galileo Galileo Eppur Si muove Perfetto Quando mi faccio schifo da solo Quando do Sistrofronomi Raga Dovreste disiscrivervi dal canale E lasciare un bel dislike Bello Relicant Uno dei Pokémon Che odio di più in assoluto Perché lo trovo veramente ridicolo Perfetto È morto E non è ancora in circolazione Cosa importantissima Lapras Ok Non ho ancora trovato un Pokémon Scarso in questo episodio Sarò sincero Ok perfetto Avevo paura di una mossa Di tipo ghiaccio Anche se buono È randomizzato Quindi in teoria Non dovrebbe avercene Infatti ha Onda Shock Che Nota mossa Di tipo ghiaccio Cosa manda Totola Ecco Come non detto Non ho incontrato ancora Un Pokémon Scarso Totola No tra l'altro Non è vero Perché abbiamo beccato Anche Corsola Che vabbè Minchia raga La potenza di Corsola Madonna Mi è venuto fuori un accento Penso in inglese Tipo lo pronunceranno Corsola Una roba del genere Allora Prendiamo la cura totale Perfetto E Allora raga Io direi di affrontare Tutti gli allenatori Tanto di tempo Ne abbiamo Waaaa Perfetto Vi prego Chiamate Il 118 Qualcosa Qualcuno Che mi possa venire A salvare Io non posso Non posso Essere qua Veramente A fare i versi Dei Pokémon Cioè Veramente Perché non mi affronti Forse perché T'ho già sfidato Potrebbe essere un'idea Ciao LSD Sei stato eliminato malissimo Ma vi ho già sfidati Entrambi Ma raga Ma io c'ho l'Alzheimer Sul serio No vabbè ragazzi Volevo ricordarvi appunto A proposito di LSD Che oggi è giorno di votazioni E quindi Anche se l'ho già detto Ve lo ripeto Non è importante Mi raccomando Votate Eccoci qua Caro Pigliamosche Credevi di scappare Alla furia del creepy Invece non ce l'hai fatta E verrai colpito Da un oltraggio A tradimento E Cioè Poi mi spiegate Perché non ho fatto Foglia magica Che era Cosa Ah Ha fatto brucia pelo Dio quel doduo Quel doduo rag È quello che ci ha Parenti dei pokemon A quanto pare Ha un effetto Propedeutico Per la salute E leggere Attentamente Il foglio illustrativo Campegista Vieni qua E affronta Bello Bello Un gran pokemon Effettivamente Spoink Madonna raga Che schifo Numel Attenzione Qua stiamo Stiamo sconfinando I confini Dello schifo Ti faccio l'oltraggio Cosa credevi fare Stub Muori Tangela Restringe la mira Perfetto Restringi la tua vita Fino a renderla Un grumo di spaghetti Quali tu sei In che serie No ok L'avevo chiamato Grumo di spaghetti Nel video Sui pokemon In cui insultavo I pokemon Della prima generazione Ovviamente in maniera ironica Anche se vabbè La gente non lo capisce Ma dettagli Lancia fiamme Viltribel Va giù Perfetto Vegano Livello 60 E ufficialmente Un bliss Questo mi fa paura Allora Ah ma io calcio Eficazio per 4 Bello Bello Cosa c'hai Una molecola In atta Ok Questa cosa Non me la dimenticherò Probabilmente Proseguiamo Con Quali sono Le possibilità Su 300 E rotti Pokemon Fino alla terza Generazione Di beccarsi Con gli stessi Due pokemon E soprattutto Con due Bliss Che sono i pokemon Più tank di sto mondo Menomale che avevo calcio Rullo Perché se non avessi avuto Calcio Rullo Probabilmente avrei spezzato La serie in 14 episodi Taglio Muori Zigzag Mi sono commosso Mi sono commosso Questo allenatore qua È veramente un mago Della strategia Levatevi giocatori Competitivi Ultra creature In VG Sì Ma cosa Il migliore Per noi È Bullocoso No Chi è Lide Allora L'ultima cosa L'ultima volta Che ho visto Una roba del genere È stata con Pokemon Light Platinum E la Roma Era buggata Ci terrei Ci terrei Perché ci tengo E se no Non ci terrei Che non si Baghi anche questa Perché altrimenti Io sclero Eh già Che sclero Vieni qua Dove credi di andare Se hai un blister Ti giuro che rido Benissimo 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 Non poteva andare Meglio di così Tra l'altro È anche il quindicesimo Rayquaza Che trovo nella serie Che hai tutti i draghi E te non lo so Cioè anche Adesso mi ciula Il vega Se hai un quarto drago Io me ne vado No Ma hai inculato Ma hai inculato tantissimo A parte che forse Sidra non è ancora drago Sì ma fa niente Lo congelo Lo congelo Lo congelo Se hai un altro drago Mi alzo Me ne vado Ok perfetto Si vai Per meno male Perché veramente Io qui tavo la serie Perché non è possibile Una roba del genere Cosmo livello 61 Perfetto Mettiamo davanti Potter Dai così Senza motivo apparente Perché ci sta Eh Aspettate Quella campeggista lì Ho trovato la cua rugiada Tre passi prima Bello così Ok Questa qua dovrebbe essere L'ultima allenatrice Ragazzi Che ha un Umbreon Bello colpo karate Ah non ti ho shottato Perfetto Adesso ti shotto Olè Vediamo poi chi ha Dodrio Che probabilmente L'hai voluto dal tipo di prima Che aveva Doduo Oseccato pure questo Charmander Perché sì Purtroppo ragazzi Bisogna accettare il fatto Si pronuncia Charmander Lo so anche a me Fa male il cuore E a Arbok Perfetto Eh Ovviamente non è che muori Tu come tutti i pokemon Normali No Ok Perfetto Ci siamo capiti Livello 61 Anche per Potter Perfetto Siamo a 18 minuti Dai che ce la facciamo E abbiamo pure due pokemon Al 61 Ottimo Forse raga Siamo un po' livellati Ma dovete capire che Non è colpa mia Cioè non lo faccio apposta Lo giuro Tra l'altro qua La cattura l'ho già fatta Meno male Perché se avessi trovato lui Probabilmente avrei sclerato In 14 lingue diverse Ne conosco solo 4 Per darvi un'idea Tu mi affronti? Mi sa che sei una psiche Sì infatti Bellsprout Noto pokemon Che si addice appunto A una psiche Ok Forse non avrei dovuto utilizzare Sulla raggio Senza un motivo apparente Surf è già meglio Clamperl Ok Fermi Falce cannone Guarda che lo sapevo io Lo sapevo Io me lo sentivo Extra rapido La madonna E poi Ok Perfetto Clamperlo giù Furetto Eh beh Furetto gli faccio surf Visto che c'è la pioggia Olè Grandi così Io sinceramente Sta zona qua Non me la ricordo molto bene Sono solo che più avanti C'è una grotta Che in questa gen Non aveva sta grande utilità Ma in generale Aspettate C'è da ragionare Perché Se in questa gen Non ha una grande utilità Io implico automaticamente Che ci sia in un altro gen Ma non c'è in un altro gen Quindi la mia frase Tecnicamente è sbagliata Ma tutti questi allenatori qua Ci sono sempre stati O stanno venendo adesso Solo perché C'hanno voglia di farmi un dispetto Non li ho mai visti Allora Fermi Boh faccio un vento gelato Giusto per colpirli entrambi Non li ho colpiti Ah ok Sì li ho colpiti entrambi Perfetto Tanto surf Speravo che vi buttasse giù Entrambi Invece non l'ha fatto Però vento gelato Dovrebbe bastare Ok Perfetto Siamo Abbiamo Perché siamo Abbiamo sconfitto anche questi Madonna ma quanti siete Veramente Ah ok Ha letto il porto di Sestisolo Ha letto il porto di Sestisolo Ha letto il porto di Sestisolo Ha letto minchia I big riferimenti proprio Dopo Rubino e Zaffiro Raggia Aurora Ok per minchia Se avessi avuto Se avessi avuto fuori vegano Probabilmente sarebbe schiattato male Sarebbe proprio Avrebbe visto Dio Gli avrebbe detto Ciao E poi se ne sarebbe andato Finta Ti finto La sorella Che cosa Non so che Mi si è scordato Una corda voca Ah Ah Bacca comero Bacca comero Cioè Io sono su un'isola Da solo Con un pescatore Un membro del team rocket E una bacca comero Hashtag Bacca comero Nei commenti È un po' che non lancio hashtag Effettivamente Adesso fate questo Hashtag Bacca comero Il famosissimo abitante Di queste isole Allora Ma merda Oggi non ho ancora combattuto Che è sta mafia Raga Cosa mi è preso Sto tradendo la divinità No non è vero raga Merda Sempre nel cuore Mi sfidi Sì Mi sfidi Ok perfetto Merda Tutti Ci vede Ok Allora Per chi non conoscesse la cheat Ovviamente mi prenderà per pazzo Però secondo me la conoscete Ottimo E Venomot Minchia c'ho mangi fuoco Ti apro Ti apro di prepotenza Comunque mi piace Sto team rocket Che ha Venomot Ratata Questi pokemon qua Molto da team malvagio Ok perfetto Eccoci qua nella grotta mutevole Ora È finito il repellente Siamo tutti d'accordo Ma la domanda è Qua dentro ci sono degli strumenti Da prendere Tutto a metterlo Dio attenzione Io ho Lady Bird C'ho la Spice is Close Perfetto Madonna che schifo la vita Altrimenti Uuu E beh che è a livello 8 Però il gay è figo Gengar Peccato che ho 4 ultraball Non lo prendo neanche per sbaglio Terremoto Che ovviamente non è effetto su merda Perché è una divinità Non puoi shottarlo Giustamente Ok perfetto Non sono riuscito a prenderlo Buona fortuna Ehm Arrivedorci Ciao È stato un piacere No la mia domanda è Qua ci sono strumenti o no Perché se non ci sono strumenti Questa grotta qua È Sono abbastanza sicuro Che in questa genna Non abbia un'utilità E quindi Me ne leverei Me ne leverei Me ne laverei Le palle proprio Tra l'altro se non ho sbaglio In Pokémon Dark Rising Dark Rising Dark Rising Dovrebbe essere Questa grotta è utilizzata All'inizio Cioè il La mappa Penso che si chiami Il linguaggio tecnico Di Acrom La mappa appunto Della Acrom Della grotta Scusatemi È stata utilizzata Come inizio Fra virgolette Della Acrom O comunque una parte iniziale Comunque ragazzi Io inizierei a prendere La barca E andare a settim'isola Come direbbe Un famoso Bravissimo cantante italiano Qui parte La ship Però vabbè Dopo questa Che spero che abbiate sentito In pochi Io vado a curare Vado a curare Lo scherzo ovviamente Non è una battuta Vado Un commento Un'iscrizione Al canale Se non l'avete ancora fatto Ovviamente Mi raccomando Rispondete Alla domanda del giorno Che sarà come al solito Qua sotto nella sidebar E passate dai social Che invece saranno In descrizione Da Toccia Noi ci becchiamo In un prossimo Video Non trovo Non riesco a stoppare Raga Cioè Sono spastico Noi ci becchiamo